Ed ora una notizia di cronaca che arriva da Pescara. Flagranza di detenzione illecita di stupefacente ai fini di spaccio. Questo è il reato contestato dai baschi verdi del comando provinciale di Pescara a un giovane di nazionalità marocchina trovato alla guida senza patente e con oltre 100 grammi di hashish nascosto negli slip. Le fiamme gialle infatti durante i controlli economici del territorio organizzati nell'ambito del piano d'azione drug market contro il traffico di sostanze stupefacenti hanno fermato nel quartiere Rancitelli un'autovettura sospetta con a bordo un marocchino 23enne e accanto un minorenne residente a Pescara. Il ragazzo trovato appunto sprovvisto di documento di riconoscimento e patente di guida ha consegnato ai militari un pacchetto di sigarette contenente cellophane con circa 3 grammi di hashish. Dopo aver ispezionato il veicolo anche con l'ausilio delle unità cinofile i baschi verdi hanno proceduto alla perquisizione personale scoprendo addosso al pusher occultato nell'intimo un altro panetto di droga per un totale di circa 100 grammi di hashish corrispondenti ad almeno 4.000 dosi medie e singole da 25 microgrammi pronte per lo smercio sulla piazza pescarese. Sequestrata la sostanza stupefacente i militari hanno identificato il pusher disoccupato e con precedenti per guida senza patente porto d'armi abusivo furto e possesso di droga per uso personale mentre l'accompagnatore minorenne pulito e incensurato è stato riaffidato alla sua famiglia. Su disposizione dell'autorità giudiziaria il giovane marocchino è stato arrestato e rinviato a giudizio per direttissima.